la è la punta vettena che siamo arrivati giunti quasi fino in cima con la bici dai dai andate avanti non fermatevi salta su caldo dai poi in tre o quattro salti cambiamo un po' casco mettiamoci un po' di fiolo per piacere ehi Marco faccio il piede allora dobbiamo il tracciato dai che malefico fermati che ti inquadra un'altra volta dopo e vai e vattene e vattene e vattene tutti a destra nonno saluta no no dai no 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 a destra no 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 aio è provabile arriviamola in alto grazie 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 grazie